Siamo al termine della gara di oggi, una partita molto equilibrata dove alla fine l'ha spuntata il Desenzano, però è stata molto equilibrata. È stata una partita equilibrata, il Desenzano ha sbloccato su delle situazioni palle inattive, a rigore una punizione, però sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno fatto quello che gli ho chiesto. È stata una bella partita di calcio, cosa che nel finale di stagione non si vedono partite così belle. La vostra cavalcata nel finale dove avete fatto grandi risultati, fisicamente sono arrivati bene i suoi ragazzi. Sì, diciamo di sì, mi ha anche detto che gli ho tirato un attimino il collo in questo finale di stagione per arrivare in una situazione del genere. Giocavamo tantissimo oggi, non ci siamo riusciti, però complimenti ai miei ragazzi e complimenti anche al Desenzano perché anche loro hanno onorato la partita. Sono sfumati solo nel finale di stagione il sogno di playoff per l'Adelese, qualcosa da recriminare? No, io non ho assolutamente niente a recriminare, ho trovato una buona squadra, una bellissima società. Certo, l'obiettivo era quello dei playoff, non ci siamo riusciti, però ce la siamo giocati fino all'ultima giornata e questa è una cosa importante. Ok, complimenti per la stagione.